Musica Chi dice che le piste ciclabili servono solo per pedalare sicuri? A Palermo per esempio non vengono occupate solo per parcheggiare auto, ma anche per ripararle. Ci si siedono sopra i venditori ambulanti di frutta e verdura, altri le occupano con bidoni e spazzatura. Siamo in via Pacinotti, da qui si estende per circa 3 km una pista ciclabile che percorrendo tutta via Galileo Galilei giunge fino a Via Lelazio, una piccola parte di un tracciato ancora più ampio che collega via Miraglio Rizzo a piazzale John Lennon. Realizzata attraverso i fondi POR 2000-2006, qui la pista ciclabile è stata istituita legalmente solo il 31 agosto del 2011. Prima di allora, infatti, la sosta delle auto su questo percorso dedicato alla cosiddetta mobilità dolce non era sanzionabile. Ma neppure oggi pare che gli automobilisti temono di prendersi una multa e a rimanere al sicuro è solo il parcheggio selvaggio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.